E questo era il volo con Capo Lavolo, dovremmo chiamarlo un po' non Capo Lavolo, dovremmo chiamarlo Capo Lavolo, visto che sono il volo. Comunque 8 e 33 minuti, bentornati, ultima mezz'ora in nostra compagnia, è la mezz'ora degli ospiti, oggi parliamo con Silvia Cannonieri, buongiorno Silvia. Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti, buongiorno Fabio. Ecco, benvenuta a Fondazione di Comunità Milano, perché oggi ci presenti un bellissimo progetto, è arrivato la terza edizione, proprio per i ragazzi e ragazze di Milano che possano sviluppare la loro creatività, più o meno così, ma tu la sai dire sicuramente meglio di me. Che cos'è figurarsi? Figurarsi, figurarsi a un contest creativo, e lo stavi dicendo proprio nel modo più corretto, un contest creativo che la Fondazione di Comunità Milano ha lanciato tre anni fa, e appunto siamo alla terza edizione, si rivolge a ragazze e ragazzi fra i 15 e i 24 anni, e ha proprio l'obiettivo di dare opportunità alle ragazze e ai ragazzi di esprimersi, di sentirsi protagonisti, di prendere parola, di dire la loro rispetto a un tema, attraverso le arti, le arti visive, quindi la pittura, la scultura, la fotografia, l'audiovisivo, oppure le arti performative, quindi musica, teatro e danza. E il tema di quest'anno è la mia città, la mia città, quindi invitiamo ragazze e ragazze ad esprimersi, arte come leva per dire la loro. Questa è una, come dire, anche una strategia della Fondazione di Comunità Milano, che con diverse attività, la Fondazione di Comunità Milano è un ente filantropico, un ente filantropico che è stato creato da Fondazione Cariplo nell'ambito del sistema delle fondazioni di comunità. Noi operiamo nel territorio di Milano e 56 comuni dell'Interland, quindi dalla Martesana fino al sud ovest, Cucinasco, Corsico. Dalla Martesana al Naviglio Pavese, così per rimanere sulle acque. Esatto, un po' più in là forse del Pavese, forse anche, esatto, Naviglio Grande, esattamente. Mi sembra un'ottima... Giusto per collegare Milano con città d'acqua. Esattamente. E niente, quindi appunto rivolgiamo alle ragazze e ragazze, alle persone più giovani, diverse iniziative e appunto nell'ambito dell'arte e della cultura abbiamo questo programma che si chiama Creatività Giovani, all'interno del quale abbiamo promosso negli anni diverse iniziative. Adesso uno di questi appunto è il contest Figurarsi, ma abbiamo in questo momento anche in corso un premio scrittura giovani che invita ragazze e ragazze a inviare delle loro opere di scrittura creativa, ma anche graphic novel e fumetto e le ragazze e ragazze hanno tempo per farlo fino all'11 di marzo. Poi abbiamo appunto il contest Figurarsi, su cui magari vi racconto qualcosa in più. E un'ultima iniziativa che stiamo portando avanti con sei enti, operatori culturali del territorio, sono sei musical di comunità. Musical di comunità? Che cos'è il musical di comunità? È un musical, quindi un vero e proprio musical. Quindi si balla e si canta. Si balla, si canta, ma si fa anche backstage. Quindi trucco parrucco, scenografia, tutto quello che serve per costruire un musical. E chi lo fa? Lo fanno le ragazze e ragazzi, anche lì fascia d'età 15-24. Ragazze e ragazzi, alcuni che avevano già delle esperienze in ambito artistico, altri invece che sono del tutto dei neofiti, ma si sono lanciati in questa esperienza. Sono partiti già da diversi mesi, accompagnati da professionisti del settore. E insieme hanno lavorato e stanno lavorando dall'ideazione alla poi messa in scena di questi sei musical di comunità. Ah, dove saranno? Ci sono delle zone precise? Sono invece sparsi nel territorio? Come funziona? Saranno sei musical sparsi nel territorio fra maggio e giugno. Andranno in scena fra maggio e giugno con una prima e due repliche. Le prime saranno in luoghi un po' più centrali della città, le repliche anche in luoghi un po' più periferici. Andremo nella periferia anche. Esattamente, l'obiettivo è anche questo. Ma noi siamo qui per parlare di figurarsi. Allora, ne parliamo fra pochissimo dopo un intermezzo musicale, così direbbe qualcuno di più bravo di me, ma soprattutto dopo un Diodato che torna da Sanremo con un ennesimo successo. Lui che di successi ne ha incanalati un bel po' e uno di questi è questa T-Muovi, direttamente appunto da Sanremo 2024. E questo era Diodato con T-Muovi. E dovete muovervi anche voi se volete partecipare a figurarsi perché sta per iniziare tutto l'iter, molto lungo, ma che non dovete perdervi nessun passaggio. Perché figurarsi, Silvia, è un progetto che veramente vedrà il suo culmine a ottobre, giusto, di quest'anno, il 2024. Esatto. Ma ha tanti piccoli passetti da fare insieme che iniziano già oggi, cioè in questi giorni. Come funziona e come inizia? Qual è l'iter e cosa succederà appunto? Cosa sarà figurarsi? Sì, il figurarsi è appunto, come dicevo, un contest, un contest che è già pubblico, per cui sul nostro sito, che è fondazionecomunitamilano.org, è già disponibile in home page. Le ragazze e ragazze interessati che hanno voglia di sperimentarsi in un prodotto artistico, in un'opera artistica, possono già inviare una propria candidatura. Ma come funziona? Questa edizione l'abbiamo pensata un po' per step. Nel senso che, considerato che chiediamo alle ragazze e ai ragazzi di presentarci delle, appunto, delle opere artistiche inedite, cioè non protette già, non coperte già da diritti siae, ma che magari hanno lì nel loro cassetto e quindi, insomma, magari l'hanno già performata, l'importante è che sia inedita, quindi non coperta dai diritti, che sia frutto di una loro creazione. Altri, invece, appunto, devono creare l'ex novo, per cui abbiamo pensato di dargli tutto il tempo necessario per farlo. Quindi, primo step, i ragazzi possono andare sulla pagina di figurarsi, inviarci nome e cognome, tipologia di arte nella quale vorrebbero presentare una loro opera e quindi candidarsi per il progetto e ci mandano, se ci mandano questa candidatura che noi abbiamo chiamato preiscrizione, entro il 22 di marzo, noi poi li invitiamo a un workshop creativo formativo nel quale ci saranno delle figure esperte che gli daranno, che daranno loro degli input, degli stimoli, dei trick, dei consigli per tradurre la loro idea artistica in un'opera. Quindi c'è questo passaggio formativo che è proprio una sorta di accompagnamento in più. Ma ci saranno anche, in questo periodo, in questi primi mesi, diciamo, di apertura del contest, ci saranno anche altre opportunità che sono volte a facilitare la produzione artistica dei ragazzi e delle ragazze. Ad esempio, stiamo creando una rete con alcuni operatori soci culturali, piuttosto che spazi per l'aggregazione giovanile, nel quale i ragazzi e le ragazze potranno andare, ad esempio, a fare riunioni, a incontrarsi, perché le opere prodotte possono essere opere individuali, ma anche opere di gruppo, opere collettive. Per cui hanno questo tempo per pensare, per produrre, se vogliono si possono anche formare attraverso il workshop e poi, entro la fine di giugno, devono inviare la loro candidatura e la loro opera. Quindi a quel punto loro sono formalmente concorrenti. Ricordiamo bene che tipo di opere si possono iscrivere e mandare a figurarsi? Opere nell'ambito delle arti visive, quindi pittura, scultura, audiovisivo, fotografia. Un cortometraggio anche, un videoclip. Esattamente, esattamente. Nel bando ci sono dei parametri. Una canzone anche volendo. Anche, sì, sì. Questo arti performative, invece abbiamo musica, teatro e danza. Però all'interno appunto del regolamento, del contest, del concorso, ci sono anche delle specifiche. Quindi ad esempio il progetto fotografico non può superare le dieci foto. Perché abbiamo dato qualche parametro per orientare un po' i ragazzi e le ragazze nella produzione. Però il tema La mia città e opere inedite. Ecco, per inedite il tema La mia città e tutte le opere possono essere sia singole che collettive, dicevi. Esattamente. Quindi è bello anche pensare che magari possono nascere dei gruppi, magari anche dai workshop, chissà, nascono fuori dei gruppi che potranno proporre qualcosa insieme. E, bene, bellissimo. E che vinco? Eh, esattamente. È questo, no? So che questa domanda si stanno facendo chi ci sta ascoltando in questo momento. Bello, bellissimo. Ma che cosa porta a casa? Cosa vinco? Non me lo dire adesso. Me lo dici fra poco. Prima una canzone, poi rimanete con noi. Perché vi diciamo cosa si vince, le varie categorie, sono varie categorie. Ci sono anche vari premi, giusto? Esattamente. Non vince solo uno, diciamo. Però dovete impegnarvi, perché sarete in tanti. Sicuramente a voler portare a casa il premio dell'edizione 2024 di Figurarsi, appunto, fra la Fondazione di Comunità Milano. The Kid Leroy stay insieme a Justin Bieber, 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 alle 8.47 minuti, qui su Christian Radio. Giovedì 29 febbraio, stiamo parlando appunto di Figurarsi, terza edizione, quella del 2024, dove ci sono tanti ricchi premi e continuano, in questi casi, no. Sono dei premi e categorie. Spiraci un po', Silvia, come funziona? Cosa possiamo vincere? Cioè, io no, ma i ragazzi che parteciperanno, cosa rischiano di vincere? Cosa rischiano di vincere? Cosa auspicano di vincere? Dunque, in primo luogo, tema categorie. Tema categorie, noi abbiamo ogni disciplina artistica, fondamentalmente è una categoria, per cui abbiamo in tutto sei discipline artistiche. Tre di arti visive, tre di arti performative, per cui ci saranno di base sei vincitori. Uno per ognuna delle sei. Ma, siccome abbiamo una fascia d'età molto ampia, 15-23 anni, e mettere insieme un 15enne con un 23enne, magari un ragazzo che sta approcciandosi al mondo dell'arte, con qualcuno che magari sta già facendo delle scuole che vanno in quella direzione, ci è sembrato un po' così, poco, cioè ci è sembrato più opportuno suddividerli, splittarli in due, i teen e gli young. Quindi, detta in maniera più easy, i minorenni e i maggiorenni. Per cui ci sono anche due, chiamiamole categorie, per fasce d'età. Perfetto. Questo per dire che, alla fine della fiera, i premi saranno 12. Ok. 12 premi economici per sei vincitori teen, sei vincitori young. I più grandicelli, i maggiorenni, avranno un premio economico di 1.500 euro. Ah beh, insomma. 1.500 euro che non sono per nulla pochi e che potranno utilizzare o per percorsi formativi, iscriversi a un corso, pagarsi una rata dell'università, oppure per acquistare delle attrezzature e strumenti per portare avanti la loro passione artistica. La chitarra, piuttosto che… Sì, sì, una bella macchina di fotografia viene fuori, ad esempio. Stavo pensando. Ad esempio, 1.500 euro. Eh sì, insomma, una bella macchina di fotografia. O un pc di quelli, insomma. Come sono, sì, anche lì. Un bel mac viene fuori. Esattamente, esattamente. E quindi, insomma, 1.500 euro non è per nulla poco, mentre per i più piccolini ci saranno dei premi, come dire, inferiori economicamente, perché saremo sull'ordine dei 500 euro, che comunque per un 15-16 anni non è per niente male. Anche perché, oltre ai premi economici, noi avremo anche delle menzioni speciali. Avremo, come abbiamo avuto nelle edizioni precedenti, questo network di amici di figurarsi, quindi enti dell'ambito culturale e artistico, che mettono a disposizione delle ragazze e dei ragazzi delle esperienze immersive, per cui, ad esempio, uno stage di danza, un abbonamento al teatro per la stagione 2024-2025, per cui, oltre ai 12 premi, ci saranno anche le menzioni speciali, le menzioni speciali che verranno poi svelate nel corso dell'evento finale che si terrà ad ottobre, per cui tutti i concorrenti poi sono invitati caldamente a partecipare all'evento finale, che è un momento di festa, anche un po' di clubbing, in qualche maniera, oltre che di premiazione, in cui saranno svelati i vincitori e anche le menzioni speciali. Tutto questo lo possiamo approfondire, immagino, su un sito, qual è? Il sito della Fondazione di Comunità Milano è fondazionecomunitamilano.org, ovviamente senza l'accento sulla A, quindi Fondazione Comunità Milano.org, e sui nostri canali social, sia Instagram che Facebook. E quindi avete tutte le informazioni che vi servono. Mi raccomando, iscrivete il tempo di... la preiscrizione... La preiscrizione fino alla fine di marzo. Fino al 22 marzo, giusto? Esatto, e mentre invece la candidatura delle opere fino alla fine di giugno. Tempo ne avete, fatevi un giro, cercate di capire cosa volete proporre per portarvi a casa questi bellissimi premi, e anche magari portarvi a casa... io devo dire che già solo il workshop secondo me sono dei premi niente male, perché insomma... già fare informazioni insieme ai professionisti che magari ti aiutano in quello che già ti piace, che hai imparato dai tutorial su YouTube, e insomma, invece impararlo con dei professionisti che te lo spiegano, deve essere davvero, davvero interessante. Tra l'altro Fabio, noi questo concorso lo realizziamo con un partner tecnico fin dall'inizio per noi preziosissimo, che sono le scuole civiche, la Fondazione Milano Scuole Civiche, quindi la scuola Paolo Grassi a Bado, quindi chi meglio di loro, e molti dei professionisti vengono da loro, per cui sono veramente di altissimo livello. Benissimo Silvia, allora io ti ringrazio tantissimo, quando hai qualche novità vieni pure qua a raccontarci, perché siamo contenti di avere te e la Fondazione di Comunità Milano qui con noi a Good Morning Milano. No, grazie, buon lavoro, e adesso puoi ritornare in città e affrontare anche tu la mia città. La mia città, esattamente. E vedremo magari, no, non puoi candidarti tu, no, non possiamo. Sono un po' gente. Facciamo una menzione speciale per te, va bene. Va bene, Silver Age, mi piace. Va bene, grazie. Grazie mille, grazie mille Silvia Cannonieri, grazie mille. Continuiamo con la musica e poi torniamo qui a salutarci, perché manca pochissimo alla nostra sigla, ma prima Mahmood, tuta gold.